Quali sono le migliori merendine d'Italia? Namo! Avete votato Fiesta, 9,14 al chilo, contro le Camille, 10,82 al chilo. Le Camille c'hanno il nome troppo bello. Nell'ultima puntata avete eliminato Buondì al cioccolato. Scrivimi qua sotto i prossimi che dobbiamo assaggiare e chi vince oggi. Facile chiamarle Camille, prova a chiamarle Alessia. C'è il profumo di un campo di carote. Esatto, di carote. Magico! Ma sotto è tipo classato. Ma è buono oltre il buono. È la Fiesta sempre magico. Però pure queste più passa il tempo più so piccole. Apriamo. Dentro poco magico. La copertura di cioccolato. Però il pan di Spagna... Il pan di Spagna è quel tuo amico delle medie che ti incontra per strada e ti dice Oh fammi una pizzera tutti insieme e te gli rispondi Ma chi te senti qui qua sotto chi vince secondo te? E le prossime merendine da provare? Secondo me vincono le Camille. Comunque Fiesta traditrici come brutto.